La vicenda dei 158 lavoratori ossa è ancora avvolta nelle nebbie dell'incertezza, allora mercoledì prossimo uno sciopero sotto il Palazzo della Regione. Sì, una vicenda che purtroppo va avanti da questa primavera, abbiamo affrontato un paio di tavoli in Regione, abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, purtroppo ad oggi, 2 dicembre, non abbiamo ancora nessun tipo di risposta, nessun tipo di certezza, 158 persone che vivono in una situazione di incertezza importante, è un problema sociale anche per la nostra città, quindi siamo arrivati a dover dichiarare sciopero proprio perché abbiamo bisogno di risposte, risposte concrete che permettono a queste persone di poter stare tranquille e fare un Natale sereno. Naturalmente la priorità è salvagodare i posti di lavoro dove sono, però ci sono anche altre ipotesi sul tavolo. Certamente, il nostro non vuole essere uno sciopero contro qualcosa, contro qualcuno, vuole essere uno sciopero costruttivo. In primo luogo vorremmo capire il bando come viene fatto, perché noi abbiamo fatto un accordo in Regione che prevede appunto l'istituzione di questo bando e anche di un percorso a tutela dei lavoratori. Sotto questo aspetto, purtroppo, dalla Troiano non abbiamo ancora avuto risposte sull'approntamento del bando, che prevede appunto un percorso di salvaguardia con l'esperienza ospedaliera all'interno del bando stesso. Quindi da questo punto di vista siamo molto preoccupati. Allo stesso tempo, come sindacato, siamo favorevoli anche ad altri percorsi di stabilizzazione, che devono vedere comunque l'attivazione di un tavolo regionale. Quindi lo sciopero è anche a sostegno della rivendicazione di questo tavolo regionale. Questa mattina in conferenza stampa un appello molto forte da parte sua affinché la politica affronti questa questione con senso di responsabilità e non attraverso una speculazione elettorale. Purtroppo quello che abbiamo registrato in questi ultimi giorni è che se su questa avvertenza osse si stia scatenando una bagarre politica. Quindi questa è un'avvertenza politica, non deve diventare un'avvertenza di carattere partitico. Pertanto faccio anche appello al sindaco della Spezia, per Luigi Perachini, in qualità anche di presidente della provincia, affinché si faccia promotore della convocazione di un tavolo sul nostro territorio alla presenza della regione, di Asle 5, di Alisa, delle organizzazioni sindacali e di tutti i parlamentari spezzini. Perché questo era l'impegno che tutti si presero in quella circostanza. E questa battaglia è una grande compattezza dei sindacati. Sì, assolutamente. Come FIAS rivendichiamo che insieme a CGL e CISLEWILL finalmente riguardo a questa avvertenza degli osse ci siamo uniti. Vogliamo essere un esempio di maturità e dare l'esempio anche alla politica, siccome è lei che deve decidere. Ora questa decisione rispetto all'avvertenza osse è politica. Noi spingeremo a tutti i livelli su questa avvertenza e crediamo che ci debbano dare delle risposte.